È stato per vent'anni al vertice dell'Associazione Partigiani di Cremona, prima come vicepresidente e poi come presidente fino al 2006. Mario Coppetti, 102 anni, ne aveva 34 quando la Costituzione entrò in vigore, decano degli artisti cremonesi. Questa è la sua scultura, dedicata al partigiano nel 2002. Oggi non ci sta al no al referendum imposto a livello nazionale. Coppetti è scosso per la recente scomparsa di Libero Scala per tanti anni ai vertici del Lampi di Cremona. Lo ricorda con nostalgia, indicandolo in questa foto che risale al 1988 durante l'incontro con partigiani francesi. Nonostante sia affranto, non rinuncia a dare battaglia per difendere l'autonomia di tutti gli iscritti a Lampi. È giusto modificare la Costituzione ed è giusto rimodernare, fare qualcosa. È la prima volta. Adesso dicono, ma se si fosse fatto qualche altra piccola cosa? No. Se vogliamo cogliere il pretesto per dire facciamo una piccola modifica, il che significa non far niente. Allora io dico sì, ci saranno perché non è un padre eterno Renzi, ma è uno che cerca di fare. Sbaglierà anche lui qualche volta, senz'altro. Però ha l'intenzione, almeno la buona volontà di fare, di smuovere questa incrostazione. Mi spiace che anche l'Ampi locale abbia preso posizione. Perché io li conosco tutti, sono amici anche quelli che ci sono. Avrei preferito che avessero detto, compagni, votate secondo coscienza. Perché la nostra associazione, i partigiani, hanno combattuto per la libertà. Non possiamo dire vota così o se no stai zitto. Ma c'è chi dice che questa riforma costituzionale sia contraria agli ideali della Costituzione. Lei cosa ne pensa? Questo qui cerca di cambiare qualche cosa. Cerca di portarci al livello degli altri paesi europei. Noi eravamo troppo indietro, troppo fossilizzati su delle forme di burocraticismo che bloccavano tutto. E allora io voterò per il sì. Ma io non dirò mai a un altro che devi votare per il sì. No. rispetto la libertà di coscienza. Io dico fai secondo la tua coscienza. Io la penso così.